Oggi parliamo del primo anello smart di Casio, un prodotto assurdo se ci pensate, ma prima dobbiamo parlare nuovamente di alcune news Apple perché si parla di un Apple TV, ma non di un Apple TV stile boxettino da collegare a un televisore, ma di una TV vera e propria con un pannello bello grande e ovviamente con un suo sistema operativo. Ma prima di vedere di cosa si tratta facciamo un passo indietro perché negli scorsi video abbiamo parlato di come Apple in realtà stia già sperimentando internamente per la realizzazione di un prodotto di totalmente nuovo, completamente diverso e dedicato esclusivamente alla smart home. Parlarne così è un po' difficile perché non abbiamo realmente un nome al quale affidarci, ma lo potremmo intendere come una sorta di HomePod più avanzato con un display collegato, una sorta di dispositivo con un braccio robotico e un ampio display. Se questo progetto dovesse essere vincente e se dovesse riscuotere un buon interesse da parte dei clienti, pare che Apple in parallelo stia già pensando e riconsiderando l'idea di una TV a marco proprio. Un Apple TV non intesa come un box per streaming, ma come un televisore vero e proprio. Sarebbe una mossa molto audace e un ritorno alle parole di Steve Jobs che nel 2011 in realtà aveva dichiarato che aveva trovato finalmente un modo come rivoluzionare la televisione. Per anni Apple ha lasciato questo campo ai grandi produttori come LG e Samsung che però già supportano alcune tecnologie Apple come Airplay, HomeKit e Apple TV+. Ma un televisore firmato Apple, oltre a vantare probabilmente di un design di fascia alta, potrebbe fare leva sulla sinergia che si va a creare in tutto l'ecosistema, offrendo funzioni esclusive e una maggiore integrazione con l'iPhone, con l'iPad, con l'HomePod o comunque con tutti i prodotti Apple. È però vero che il mercato delle TV è notoriamente difficile, con margini molto ridotti, ma Apple in realtà potrebbe comunque posizionarsi nella fascia premium più alta del mercato, puntando agli utenti più fedeli, al brand e soprattutto sulla qualità del prodotto. Inoltre un'Apple TV potrebbe anche offrire un'interfaccia estremamente semplificata, realizzando la visione di Jobs di una TV che non facesse pensare. L'introduzione di una TV Apple offrirebbe agli utenti un nuovo punto di accesso unico e ottimizzato per la fruizione dei contenuti e soprattutto anche per il controllo della smart home. La cosa che però non capisco è come Apple possa riuscire nel differenziare bene la vecchia Apple TV, quel piccolo box, da un televisore vero e proprio. Con l'Apple TV andiamo praticamente a cambiare completamente l'interfaccia di una TV e non so quali possono essere i benefici di avere invece un televisore ammarchiato Apple. Notoriamente i prodotti Apple hanno dei costi un po' più elevati, un po' più alti rispetto alla media del mercato, ma molto spesso sono giustificati da un'elevata qualità di materiali e soprattutto con un software dedicato. Se quindi abbiamo oggi una Apple TV stile box con un software, con un'interfaccia Apple che sono praticamente perfetti, cosa ci potrebbe servire e cosa ci potrebbe essere in un televisore ammarchiato Apple? Io sinceramente non ho idea, ma comunque vedremo in futuro. Ma prima di continuare oltre vi chiedo un piccolo favore perché per voi è una roba davvero rapidissima, ma per me fa tantissimo e mi aiuta tantissimo sul lavoro che faccio qui su YouTube e su tutti quanti gli altri social e vi chiedo quindi di lasciare un mi piace al video e soprattutto di iscrivervi al canale perché è davvero importantissimo, quindi davvero grazie mille. Torniamo però a Casio, la notizia principale di questo video, perché il famosissimo brand di orologi ha presentato il suo primo anello smart. Il nome è in perfetto stile Casio, si chiama CRW0011GR, che in pratica è un mini orologio digitale da indossare al dito. Questo gadget rende omaggio al celebre design dell'F91W, un orologio simbolo degli anni 80, ancora popolare grazie alle versioni dell'A158. Con l'anello Casio riprende queste linee storiche e le va a miniaturizzare. Non ha funzioni biometriche come i moderni anelli smart, come quello di Samsung, ma è dotato di retroeliminazione, cronometro, sveglia, segnalata con il lampeggiamento del display. Ha un'autonomia di due anni e quando la batteria si esaurisce può essere sostituita facilmente. Casio in realtà si era già avventurata nel mercato degli anelli lo scorso anno, nel 2023, ma quelli erano degli accessori puramente estetici senza funzioni attive. Casio con questo mini orologio da dito ha optato per una misura fissa con eventuali spessori inclusi in confezione per adattare le dita più sottili. Per le dita un po' più grandi invece non c'è niente da fare, non è adatto. Realizzare un design così dettagliato ha richiesto a Casio una speciale tecnica per la stampa del metallo che ha permesso di ricreare poi tutti questi particolari iconici del brand su questa scala ridotta. Comunque, questo CR-V, questo anellino, sarà disponibile inizialmente solo in Giappone a dicembre a un prezzo di circa 120€ e non è chiaro se verrà esportato in altri mercati. Ma comunque, l'anello smart di Casio non è l'unico richiamo che l'azienda ha fatto al passato, alle sue vecchie generazioni, perché Casio ha appena presentato anche una nuova versione moderna del suo orologio calcolatrice, un prodotto iconico ispirato agli anni 70. Questo nuovo modello è un viaggio nel tempo perché riprende lo schermo LCD con cratteri verdi su sfondo nero, una tastiera con font originali, divisi per griglie e in perfetto stile vintage. Oltre alla funzione calcolatrice che consente di sommare, sottrarre, moltiplicare e dividere per otto cifre, questo orologio include anche un doppio orologio, una doppia selezione dell'ora, sveglia, cronometro e altre modalità tipiche degli orologi Casio. Insomma, Casio come sempre si sta dando da fare con questi prodottini che sono secondo me molto interessanti. Siamo abituati alla ricerca di funzioni estreme e super smart, specialmente su questo canale, però molto spesso sono queste le cose di cui veramente abbiamo bisogno, cose semplici, fighe e utili da utilizzare nel quotidiano. Passiamo però alla terza notizia di questo video perché Samsung sembra decisa a rivoluzionare tutto l'intero mercato dei pieghevoli, con un nuovo dispositivo a tripla piega. Questa tecnologia ha recentemente catturato l'attenzione con Huawei, che ha presentato il primo modello di Trifold, il Huawei Mate XT, che è stato venduto per ora soltanto in Cina. Secondo le ultime indiscrezioni, anche Samsung potrebbe lanciare un dispositivo simile nel 2025. La conferma arriva da un brevetto pubblicato dagli uffici dei brevetti degli Stati Uniti, che descrive questo dispositivo con un design trifolding, ovvero con una tripla piega praticamente. Nel brevetto Samsung presenta un dispositivo che, da chiuso alle dimensioni di uno smartphone tradizionale, uno smartphone comunque un po' ingombrante, è una volta aperto, si trasforma prima in un tablet e poi nella configurazione massima in un display simile a quello che potremmo trovare direttamente in un laptop, in un portatile. In sostanza, sembra che l'idea alla base sia simile a quella di un Huawei Mate XT, ma Samsung, con l'esperienza maturata nel Galaxy Z Fold, potrebbe introdurre dei miglioramenti soprattutto in termini di resistenza del dispositivo e soprattutto con una piega che si nota un pochettino di meno. Oltre all'hardware, poi Samsung potrebbe sfruttare tutta l'esperienza che ha sviluppato con il software della serie Galaxy, ottimizzando poi tutto il software e tutta l'esperienza utente e adattandola alle diverse casi d'uso che proprio un Trifold potrebbe utilizzare. L'interesse di Samsung per il Trifold evidenzia il potenziale di questo segmento, nonostante una buona fetta di consumatori continui a preferire i formati classici e chieda principalmente una migliore autonomia di questi dispositivi, comunque Samsung sta spingendo tantissimo su queste nuove tecnologie. Secondo alcune voci, il 2025 potrebbe vedere Samsung lanciare addirittura tre pieghevoli, tra questi appunto ci potrebbe essere questo Trifold che sta generando molta curiosità soprattutto perché riesce a combinare le funzionalità di uno smartphone, tablet e probabilmente di un laptop. Secondo me se dovesse realizzare una roba del genere, magari nella modalità più aperta, nella modalità massima, ci potrebbe essere Samsung DeX, sarebbe una roba davvero fighissima. Comunque questo era tutto, come sempre vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale e farmi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di tutta questa roba, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!